Il tempo a Londra, fa sempre schifo, è bruttissimo ragazzi quindi se state cercando queste informazioni e sperate che qualcuno vi dica che il tempo è bello state perdendo il tempo, il tempo fa schifo, è bruttissimo, piove sempre, piove dall'alto, piove dal basso vi piove da tutta parte, mi ricordo una volta che stavo scendendo dal bus per la prima volta nella mia vita ho visto piovere dal basso, mi arrivava così l'acqua in faccia se questo per voi non è un fattore limitante allora venite a Londra se credete che invece un posto dove piove sempre sia un qualcosa di limitativo per la vostra felicità evitate assolutamente il Regno Unito e tutti i paesi della nostra Roma perché piove, 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 piove e anche quando avrete lo spiraglio di luce che vi arriverà e tutti quanti alzerete la testa e dicete è venuta l'estate non vi preoccupate, due minuti e piove di nuovo quindi se invece siete delle persone a cui il tempo non interessa una mazza e allora tranquilli, venite, trovate lavoro, facite una famiglia scusate, tanto non si campa di sole di mangiare come pizza, mandolino e caffè eccetera eccetera piuttosto si campa di soldi e di soddisfazioni mi direte ma tu adesso stai a mezze maniche certo sto a mezze maniche perché fa caldo ma non vi preoccupate assolutamente, farei freddo in un... grazie a tutti Grazie a tutti.